Grazie per la nuova video review, anzi forse dovrei dire più che altro video bocciati perché in questo video vi devo bocciare in particolar modo due contorni occhi che ho provato in questo periodo e che ragazzi veramente, cioè per finirli, per finirli mi sono veramente dovuta mettere di impegno perché non voglio mai, lo sapete, odio sprecare i prodotti o odio sprecare i soldi perché sono stati qualcosa di incredibilmente, non lo so, me ne hanno combinate diciamo di tutti i colori nel senso che sono stati pessimi sulla mia pelle, magari altri ci si trovano benissimo sono felicissima per voi però su di me sono stati veramente orrendi. Allora in particolare parliamo di questo qua di Lierac, Lierac tra l'altro è un brand molto conosciuto, venduto nelle farmacie quindi insomma è un buon brand questo qua è il crema riempitiva correzione di rughe, agisce sulle rughe marcate, rughe di espressione con tante sostanze funzionali, insomma è un contorno occhi per le rughe, io non è che abbia tutte queste rughe insomma da riempire però preferisco sempre vendere un prodotto magari, comunque contro le rughe perché va a nutrire molto più in profondità quindi anche se non avete le rughe, cioè non è che ve le fa venire non ce l'avete e basta però insomma mi va a nutrire parecchio, io cerco sempre dei contorni occhi che comunque siano tanto tanto nutrienti perché secondo me è una zona da trattare praticamente con i guanti bianchi quindi è sempre meglio andarle a nutrire di più piuttosto che di meno, magari evito di utilizzare quelli troppo ricchi troppo oleosi, troppo nutrienti durante il giorno perché sotto il trucco magari non vanno bene però insomma cerco di utilizzare dei buoni prodotti quindi in farmacia ho preso questo qua e ha un tubicino così come potete vedere l'ho comunque spremuto e finito perché non volevo sprecarlo all'interno ha 15 ml di prodotto con un paio di 6 mesi però io che l'ho finito, l'ho finito tutti i giorni quindi l'ho finito in 2-3 mesi non di più e questo qua non fa niente non mi sentivo il contorno occhi particolarmente nutrito non ho visto differenze eclatanti anche se c'è scritto per rughe profonde insomma veramente cioè questo qua non fa niente cioè io se utilizzavo questo, utilizzavo quello di Shein del Lidl era esattamente la stessa identica cosa cioè io mi sentivo il contorno occhi idratato allo stesso modo non vedevo assolutamente nessuna differenza quindi assolutamente c'è questo qua pessimo perché costa parecchio e non vale quello che costa secondo me almeno su di me veramente niente poi altro prodotto è invece di Euphidra quindi contorno occhi rivitalizzante per tutti i tipi di pelle questo qua l'avevo preso in particolare per utilizzarlo magari durante il giorno perché ha una formulazione, ve lo faccio vedere così più diciamo ha un gel più che una cremina quindi ha una consistenza un pochino più leggera quindi dico sicuramente durante il giorno sotto il trucco soprattutto in estate mi sarà più comodo e questo qua devo dire allora con il trucco assolutamente ci fa a cazzotti a cazzotti quindi se utilizzate questo lo fate anche asciugare poi mettete sopra qualsiasi tipo di correttore qualsiasi tipo di fondotinta vi si divide cioè proprio ci fa a botte sono l'antitesi è come l'olio con l'acqua questo e il make up non possono coesistere sul vostro viso quindi sono passata ad utilizzarlo di sera dico vabbè adesso lo utilizzo di sera vediamo l'ho utilizzato e anche questo qua non dà grandissima hidratazione però ovviamente non mi aspettavo da questo qui tanti effetti come con quell'altro perché quell'altro c'è scritto che chi sia quello che fai questo qua appunto mi aspettavo semplicemente che andasse ad idratare il contorno occhi io l'ho iniziato ad utilizzare e poi a un certo punto ho iniziato a pizzicarmi cioè io lo mettevo tutto il contorno occhi qui inizia a pizzicare, pizzicare, pizzicare mi dava veramente super super fastidio quindi anche questo qua cioè finirlo è stata un'impresa titanica perché durante il giorno non lo potevo usare alla sera mi ha dato questo problema che mi pizzicava quindi comunque stavo attenta e cioè è stato veramente un patema d'animo quindi devo dire che tutti questi due contorno occhi io li boccio sono da farmacia, sono da quello che vi pare ma assolutamente non valgono, non valgono assolutamente per niente i soldi che spendete per acquistarli quindi no, non ci siamo e io adesso sto utilizzando una linea di prodotti nuovi e mi ci sto trovando benissimo ve ne parlerò presto perché è qualcosa di incredibile mi ha veramente cambiato tantissimo la pelle e ve ne parlerò presto però per adesso questi qua non li acquistate e non li acquistate, no scherzo magari su tanti di voi faranno sicuramente un bellissimo effetto però su di me mi hanno creato tutti questi problemi quindi magari se siete in dubbio sull'acquistarli o no non lo so, fatemi un giro di review andate a leggere in giro perché non so quanto costano essere adatti spero come sempre che in questo video vi sia stato utile se sì lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video